Benvenuti a Terra Madre, siamo con Roberto Miranti, maestro del gusto da ben tre edizioni e titolare della pasticceria Orsucci, una pasticceria che ha riscosso molto successo in questi ultimi anni. Ma Roberto, cosa significa per te e per la tua attività essere maestro del gusto? Innanzitutto, buongiorno a tutti, essere maestro del gusto vuol dire avere una condivisione con dei colleghi che hanno l'eccellenza territoriale e che comunque cerchino di spingere la territorialità dei prodotti e soprattutto il buon prodotto, il prodotto genuino. La tua pasticceria si trova nella circostinzione 5 di Torino, in via Borgaro. Cosa significa gestire oggi una pasticceria di quartiere a Torino che però si apre anche all'internazionale? Guarda, io sono dell'idea che anche se siamo in un quartiere di circoscrizione, non siamo in centro, faccio sempre una battuta ai miei clienti, faccio sempre una battuta alla gente che mi fa questa domanda dicendo chi ha detto che il centro sia Piazza San Carlo o Piazza Castello? Il centro è dove noi vogliamo che sia con i prodotti e l'attività che tu vuoi dare, cioè l'eccellenza che vuoi dare al cliente. Perfetto, bellissima risposta. Allora, Terra Madre, buon Terra Madre, buon Salone del Gusto e ci vediamo in giro.